Paura per un 41enne residente in città. L'uomo nottetempo incontra oratorio dei porti mentre stava rincasando si è visto avvicinare da due individui mentre uno lo tratteneva l'altro gli sottraeva lo zaino che teneva a tracolla e contenente effetti personale e documenti. Pochi secondi e i due malfattori si sono dileguati a piedi per le vie della città. Sul posto sono giunti i carabinieri avvisati dalla vittima che riportava alcune lesioni. Si stanno ravvagliando i filmati delle telecamere di videosorveglianza.